Una rappresentanza del comitato Battipaglia di Cenò ha incontrato presso gli uffici del Genio Civili a Salerno il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per discutere delle questioni ambientali che affliggono il territorio cittadino. De Luca ha riconosciuto la gravità della situazione ambientale e la necessità che la regione affronti tale contesto con la giusta priorità, salvaguardando anche la vocazione agricola ed agroalimentare dell'indotto economico cittadino. Il governatore, anche alla presenza dell'assessore all'ambiente, nonché vicepresidente Vulipo della Bitacola, ci ha dato un'apertura che fino ad ora non avevamo mai riscontrato. In effetti sono stati accolti molti dei punti che noi avevamo messo a sua attenzione. Vogliamo ricordarne qualcuno? Sicuramente c'è la bonifica della Castelluccia, come dare un impulso maggiore per un controllo ed una serrata vigilanza nel rispetto delle regole delle aziende private che lavorano rifiuti. Il famoso studio di compostaggio che era previsto nel piano di rifiuti regionali per 35.000 tonnellate sarà implementato solo essenzialmente per la frazione d'umido prodotta solo dal comune di Battipaglia. ci ha dato un'altra apertura importante che riguarda il confronto costruttivo con l'istituzione di un tavolo paritetico di cui noi, insieme agli altri attori principali di questo processo, che sono la provincia, oltre che il comune, è lente d'ambito, faremo parte. Ecco, queste sono cose fondamentali che fino all'altro ieri, anzi fino a ieri, erano nelle più grosse previsioni. In questo senso il ruolo dell'amministrazione comunale qual è? La politica, noi rispettiamo i ruoli e quindi sappiamo bene che la strategia di un territorio passa attraverso la politica che ne va a decidere il destino. Ora, mentre parliamo, il consorzio ASI sta facendo un recupero dell'ex area dell'interporto per farne un polo strategico per l'agroalimentare. La stessa agricoltura sta ponendo in essere un progetto importante di un distretto agroalimentare di qualità. Queste sono le cose che la politica e le istituzioni dovrebbero fare per un territorio che esprime il primo polo agroalimentare della Campania, che esprime il secondo polo di terza e quarta gamma di Europa, che esprime il 7,5% del prodotto interno all'urto della Campania. Questo è quello che deve fare la politica, come tutela e salvaguarda e sviluppo del territorio. Ieri noi eravamo soli. Diciamo che il nostro lavoro di un anno e mezzo, in cui anche in certe occasioni si è stata vicina all'amministrazione, come il famoso corteo del 23 novembre del 2017, però poi dopo siamo lasciati un po' a noi stessi. Però noi con passione, con determinazione, con ostinazione, con capabilità e soprattutto con amore per il nostro territorio, abbiamo detto a tutti, quando è entrata a casa nostra dovete chiedere il permesso.